Restiamo in tema, la nostra Stefania Trapani ha intervistato proprio il questore di Roma che ha fatto il punto sulle misure di sicurezza e preparativi in vista della partita di domani alle 21 all'Olimpico. Sentiamo. Abbiamo suddiviso l'area all'interno della quale c'è l'Olimpico in tre grandi macro aree che per noi convenzionalmente abbiamo definito area nord, sud ed est, ma questo già fa comprendere geograficamente a quali aree territoriali ci riferiamo, in maniera tale da creare delle zone di sicurezza per consentire ai cittadini di avvicinarsi allo stadio olimpico delle migliori condizioni possibili. Queste aree saranno opportunamente presidiate con dei dispositivi interforze delle forze di polizia e di polizia Roma Capitale in maniera tale da intercettare qualsiasi problematicità che si dovesse verificare. Quali le misure in vista di venerdì? L'organizzazione ha previsto un sistema di avvicinamento all'interno dello stadio fatto di step, fra i quali oltre il filtraggio e la verifica dei biglietti anche appunto la rilevazione della temperatura corporea attraverso dei tunnel di rilevazione della temperatura dedicati proprio all'atto dell'ingresso dell'area riservata esterna, che non è altro che l'area successiva immediatamente all'area di massima sicurezza che poi non è altro che lo stadio. Avete in programma di perimetrare la zona dello stadio? La perimetrazione è quella che ho appena menzionato adesso. Gli ingressi contingentati sono stati curati proprio dall'organizzazione inserendo nel biglietto di ciascuno anche l'ipotetico orario in cui era meglio avvicinarsi per evitare appunto assembramenti. Anche la polizia sarà presente non solo nel momento preparativo ma ci sarete anche in campo? Con grande orgoglio, me lo lasci dire questo, ci sarà la banda della polizia di Stato, ci saranno i cavalieri del reparto a cavallo di Larispoli, tutti quanti in uniforme storico risorgimentale e ci saranno anche i giovani delle fiamme oro della polizia di Stato in questa cerimonia.